Giorgio Durois Giorgio Durois Giorgio Durois vestito e come mi ricambi. Con chi eri oggi? Con Clotilde o Virginie? O con entrambe? Mi chiamavo quando non avevi niente. L'amore non basta nella vita. Tutto è così chiaro per me. Ma non ci sarà un'altra vita. E io invece sono ancora vivo.